Questo è il sesto risultato utile consecutivo per il Pineto, la seconda vittoria, ma che cosa manca ancora a questa squadra? Cosa manca? Manca un po' di fiducia in noi perché i giocatori ci sono, l'allenatore c'è, c'è tutto per far bene. Dobbiamo dare un po' di continuità ai risultati e sicuramente le cose verranno meglio. Domenica si torna in campo subito, ci sarà un altro derby, un derby importante in casa contro il Francavilla che è una squadra che sta facendo molto bene in questo frangente. Sì, Francavilla è un'ottima squadra attrezzata con giocatori importanti e sarà un'altra battaglia che affronteremo comunque con la giusta attenzione cercando di portare a casa la vittoria perché noi quello cerchiamo e quello vogliamo. Certo, bisognerà cercare di approcciarla meglio la partita contro una squadra che ha un ottimo attacco e poi insomma che partita dovrà fare il Pineto secondo Bicegno? Beh, sicuramente dobbiamo approcciare meglio quello senza dubbio, però è un Francavilla pieno di giocatori ottimi, di ottima fattura, quindi dobbiamo stare concentrati, corti come sappiamo e fare quello che sappiamo fare meglio, giocare a calcio e sicuramente il risultato verrà. Fattore mentale? Fattore mentale quello magari può incidere soprattutto magari con i nerostellati perché magari pensi in classifica, ultimo in classifica, quindi c'è un po' di rilassamento e sappiamo che queste qua sono le partite più difficili. Sicuramente con una partita così diciamo di alto livello le motivazioni vengono da sole e quindi è molto più facile approcciare a quel tipo di partita.